Arriva la maxi proroga per bar e ristoranti per quello che riguarda l'area pedonale. Tavoli in strada dunque fino a fine ottobre. Era entrata in vigore lo scorso aprile e la sua scadenza era stata fissata al 30 di settembre. Adesso arriva la decisione perché in tempo di ripartenza il successo della maxi area pedonale complice un'estate dal flusso turistico sbalorditivo non sarà frenato. Questo dunque quanto deciso dalla giunta comunale all'unanimità. Un'estate a retina vivace quella che si sta per concludere affermano i due assessori Alessandro Casi e Simone Cherici animata come non mai da strade e piazze che nel pieno rispetto delle norme anti-covid si sono riempite di cittadini e turisti non deve essere frenata. Le regole rimangono le stesse. L'allestimento è consentito nei giorni di venerdì e sabato dalle 19 alle 24. La maxi area pedonale riguarda il cuore della città, il centro storico, Corso Italia, le sue traverse, piazza Grande, piazza San Francesco ma anche via Roma, via Crispi, strade chiuse e tavoli sui marciapiedi e sui lastricati. Tutto per accogliere all'aperto i clienti e dare più opportunità di lavoro ai ristoranti e ai proprietari di bar.